Grazie Presidente, ci occupiamo di missioni internazionali che è uno dei modi con i quali si estrinseca la politica estera del nostro Paese. Discutiamo dell'impiego delle nostre forze armate all'estero e questo impiego sta avvenendo in una situazione, in un contesto geopolitico che definire drammatico è un eufemismo. E questo contesto non può essere né ignorato né sminuito nel dare valore e interpretazione alla nostra azione di politica estera. In questo momento ci sono dei conflitti, come tutti noi sappiamo, che sono di natura terrificante e di cui purtroppo non si intravede la fine. E coinvolgono, come al solito, tantissimi civili, ci sono tante perdite di uomini, donne e bambini, specie faccio riferimento a quello che sta accadendo a Gaza. E tutto ciò rischia di incendiare, letteralmente incendiare intere regioni e di saldarsi tra loro portando a quella che può essere, Dio non voglia, la terza guerra mondiale, un conflitto mondiale. Questo riferimento della terza guerra mondiale a pezzi è stato fatto dal Santo Padre, da Papa Francesco. Oggi noi vediamo che questi pezzi a cui fa riferimento Papa Francesco si stiano saldando tra loro in Europa, in Mediorente e in Africa, con i nostri militari che sono schierati in prima linea proprio su questi fronti, sui fronti più caldi. Parto dall'Ucraina, dove la strategia che si è seguita finora, la strategia occidentale di voler proseguire a oltranza l'invio di armi, il supporto militare a Kiev, senza alcun serio tentativo negoziale, con l'unico obiettivo di arrivare a una vittoria finale, alla sconfitta della Russia, non sta dando alcun risultato, anzi si sta rivelando tragicamente fallimentare. E come noi avevamo previsto, lo diciamo da anni, ormai da due anni, fin dall'inizio, il conflitto difficilmente avrebbe potuto avere una soluzione militare. E, ripeto, non lo diciamo soltanto noi, lo dicono esperti militari, analisti, quelli che non prendono ordini da Washington. Voglio citare per esempio il capo di Stato Maggiore Mark Milley, il suo omologo che nel frattempo è stato dimissionato ucraino, e da ultimo, è questione proprio di qualche ora fa, il numero due dell'intelligence militare ucraina, ha detto testualmente che non si vede alcuna strada secondo cui l'Ucraina potrebbe vincere la guerra. E invece, nonostante questa evidenza di fatti, si è proseguito in maniera imperterrita nella stessa direzione, cioè fornire armi su armi e dire ci fermeremo soltanto in caso di vittoria finale. E invece è necessaria un tentativo serio diplomatico negoziale, come peraltro questo Parlamento aveva deciso il primo marzo 2002. Io lo voglio citare, questa è la risoluzione di maggioranza che è stata approvata, che al secondo punto prevedeva di intraprendere seri tentativi negoziali, e solo al punto 3 dava all'Ucraina il sostegno umanitario e anche militare di equipaggiamenti. Vorrà pure dire qualcosa. E invece questo approccio è stato dimenticato da questo Governo e in parte anche da quello precedente. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Dopo due anni, dopo una carneficina a cui abbiamo assistito, non solo l'Ucraina purtroppo, ne siamo ovviamente tutti dispiaciutissimi, non solo l'Ucraina non ha alcuna possibilità di riconquistare i territori che sono stati invasi follemente dalla Russia di Putin, ma anzi si corre il serio rischio che ci sia uno sfondamento delle truppe russe, che quindi con un peggioramento della situazione in Ucraina. Non volerne prendere atto e continuare in questo modo significa davvero fare un danno all'Ucraina e non fare gli interessi degli ucraini e di quel Paese. Noi, ripeto, confidiamo ancora che all'interno di quest'Aula e nel Paese torni la ragionevolezza, torni la capacità di effettuare analisi sul campo e di non perseguire delle chimere di vittorie e di contrapposizioni durissime. Tra l'altro, Presidente, noi stiamo assistendo proprio negli ultimi giorni a una escalation anche verbale di contrapposizione tra il blocco occidentale, tra la Nato e la Russia, che forse non ha uguali nei decenni. Il Presidente francese Macron evoca un intervento di truppe Nato sull'Ucraina che segue una certa coerenza perché l'Ucraina in questo momento ha bisogno più di armi, ha bisogno di uomini e donne sul terreno perché purtroppo la maggioranza delle truppe russe appunto al fronte è schiacciante e allora autorevoli membri della Nato, faccio riferimento non solo al Presidente Macron ma anche a Camera, il Ministro degli Esteri del Regno Unito, paventano interventi o l'invio di armi sempre più letali all'Ucraina. Questa, che definirei una lucida follia di chi vorrebbe far sì che ci siano degli interventi di truppe Nato sull'Ucraina, è qualcosa che si deve davvero scongiurare con tutte le nostre forze. Noi quasi un anno fa, il 21 giugno del 2023, avevamo interrogato il Ministro Cosetto su delle parole che avevano avuto fuori dall'ex segretario generale della Nato Rasmussen che ipotizzava l'intervento sul terreno ucraino al fronte di truppe Nato. Il Ministro Cosetto ci prese quasi in giro, ci disse che gli facevamo perdere tempo su farneticazioni di colui che non aveva più ruoli di rilievo nell'ambito della Nato e che sostanzialmente non c'era alcun pericolo in questo senso. Un anno fa, lo dicevamo, io sono certissimo che il Ministro Cosetto non sapeva di questa eventualità, nessuno degli oltransisti all'interno della Nato gliene aveva parlato, né lui da solo aveva capito a che cosa si stava andando incontro, probabilmente perché è troppo occupato a fare il Ministro non della difesa ma il Ministro del riarmo e quindi senza che nessuno glielo spiegasse, lui da solo purtroppo non c'era arrivato. C'è questo, ripeto, pericolo concreto e noi tutti, uomini e donne di buona volontà, dobbiamo scongiurarlo perché la Terza Guerra Mondiale non è più lontanissima, come accadeva soltanto due o tre anni fa, ma purtroppo si avvicina a passi sempre più da gigante. Allora, davvero Presidente, noi confidiamo che tutto questo possa accadere e pretendiamo anche o suggeriamo o chiediamo al Governo che le attività di addestramento delle truppe ucraine da parte di nostri soldati avvenga esclusivamente o nel territorio nazionale in Italia o nel territorio dell'Unione Europea e non avvenga in Ucraina, perché il passo potrebbe essere semplice di arrivare a un diretto coinvolgimento delle nostre truppe nel conflitto. Ci sono purtroppo casi della storia in cui ciò è avvenuto, faccio soltanto l'esempio del Vietnam, dove la guerra cominciò soltanto con l'invio di osservatori, prime addestratori militari da parte degli Stati Uniti, salvo poi il coinvolgimento pesantissimo e diretto degli Stati Uniti in quella guerra sanguinosa. Noi davvero aspettiamo che il Governo prenda un impegno solenne da questo punto di vista con gli italiani e con questo Parlamento. Per quanto riguarda la missione in Libia, noi ravvisiamo una situazione che davvero è critica, perché si susseguono, purtroppo ci arrivano delle informazioni in cui si perpetrano dei veri e propri crimini nei confronti dei migranti che sono sottoposti a ogni genere di vessazione, mi avvio a concludere. Noi quindi per questo motivo siamo fermamente contrari alla prosecuzione di questa missione. Eravamo già dubbiosi nei mesi scorsi, ma le notizie che continuano ad arrivare non solo confermano i nostri timori e le nostre paure, ma anzi li fortificano purtroppo. Faccio un brevissimo riferimento e poi concludo a quello che sta succedendo a Gaza, che davvero rischia di incendiare tutto il Medio Oriente. Anche lì i nostri militari si trovano in Libano e potrebbero trovarsi in una situazione, Dio non voglia, se ci fosse un'escalation militare, se il Governo Netanyahu dovesse continuare in questa folle punizione collettiva nei confronti dei civili palestinesi che si trovano a Gaza. Ormai sono 35 mila le vittime, in gran parte donne e bambini, che ovviamente, lo capisce chiunque, non c'entrano nulla con i terroristi di Hamas che hanno effettuato l'attacco del 7 ottobre. E quindi noi davvero ci auguriamo che l'Italia riprenda a finanziare l'Unfa, che è l'unica organizzazione che davvero riesce a portare un aiuto a quelle popolazioni, anche perché ormai le indagini indipendenti che sono state effettuate hanno certificato che le accuse che erano state mosse da Israele, accuse gravissime, quindi di un coinvolgimento di terrorismo di questa organizzazione, sono infondate. Lo dice Katrin Colonna, non lo dico io, non lo dice il Movimento 5 Stelle. Allora Presidente, davvero concludo, dobbiamo prendere atto di queste conclusioni e quindi dobbiamo riprendere a aiutare quelle popolazioni, ma aiutarle concretamente perché dirlo solo a parole, non mandare i fondi necessari affinché questo aiuto possa essere esplicato nei confronti, ripeto, di donne e bambini che stanno soffrendo delle pene atroci. Allora, non avere il coraggio di affrontare questa situazione, posto che altri paesi europei, non solo europei, concludo davvero, l'hanno già fatto. Nelle scorse ore, e questo è davvero la mia conclusione, la ringrazio Presidente, il Presidente Mattarella ha detto parole nettissime e definitive perché ha affermato che la corsa a riarmo... Perché sta fuori di un minuto. La ringrazio, ma so per finire... Deve dire come vuota e basta, guarda. È una riga. Se no sono consente a toglierle la parola. Presidente, il Presidente Mattarella ha affermato che la corsa a riarmo... La ringrazio. Presidente, il Presidente Mattarella ha affermato che la corsa a riarmo...